Salvatore Tafaro Salvatore Tafaro Salvatore Tafaro Ognuno per la sua parte, ha detto Pappaterra, farà valere nelle prossime settimane le ragioni di un'assoluta estraneità e non responsabilità rispetto alla vicenda. Abbiamo anche apprezzato l'approccio che per quanto ci riguarda è di forte costruttività a collaborare per la ricerca delle responsabilità, ma soprattutto per fare piena luce su tutto quello che è accaduto nelle gole del Raganello. Attendiamo dunque con grande serenità, ha concluso il Presidente del Parco del Pollino, il lavoro della magistratura avendo piena fiducia nella giustizia. Uno scippo ai danni della Regione è stata così definita dai parlamentari calabresi del PD, il decreto mille proroghe che si aggiudica la fiducia della maggioranza e taglia così i fondi destinati alle periferie calabresi. Sentiamo. Il decreto mille proroghe che taglia i fondi destinati alle periferie calabresi ha ottenuto la fiducia della Camera, la prima del Governo Conte, con 329 voti a favore, 220 contrari e 4 astenuti. La Calabria perderebbe così circa 100 milioni di euro, 58 per le periferie di Reggio Calabria, 6 per quelle di Vivo Valencia, 17 per quelle di Cosenza e Catanzaro e oltre 3,5 per quelle di Crotone. Nei giorni scorsi il gruppo del PD calabrese alla Camera aveva protestato vivacemente contro la misura considerata un vario e proprio scippo ai danni della Regione, come il deputato Dem Antonio Viscomi che sul suo profilo Facebook si sfoga e spiega i motivi del suo no. Non credo sia possibile apprezzare un decreto, scrive, che toglie ai comuni i soldi già assegnati per intervenire sulle periferie, interrompendo così non solo attività già avviate sul piano procedurale, ma anche processi di partecipazione sociale e istituzionale sui territori. Il meridione non rientra nell'orizzonte di questo governo se non come bacino elettorale. I comuni, tutti i comuni, hanno il diritto di portare a compimento il percorso progettuale connesso al bando periferie e non solo per motivi di carattere giuridico, quanto piuttosto perché quel bando ha un valore politico che il definanziamento da voi oggi votato non può nascondere. Dove voi avete letto comuni, noi abbiamo visto comunità, fragili, friabili, frammentate, frantumate da un disagio profondo che chiede di essere compreso, accolto, accompagnato nella sua trasformazione. Dove voi avete letto risorse finanziarie, noi abbiamo letto capitale sociale che si radica in relazioni di fiducia appunto tra le istituzioni e tra questi cittadini. Tragedia sfiorata sulla 2, un uomo imbocca l'autostrada a contromano e percorre circa 10 chilometri per fortuna, nessuna conseguenza. Un episodio che avrebbe potuto avere dei risvolti davvero drammatici e che solo grazie a fortunate circostanze non si è trasformato in tragedia. E' accaduto la scorsa notte sull'autostrada a lue del Mediterraneo fra gli svincoli della Mezzaterme e Pizzo in direzione sud. Un uomo infatti originario di Lauria ha percorso l'autostrada in senso opposto per circa 10 chilometri. Nel tragitto l'uomo ha incrociato diverse automobili e numerosi camion che certamente non si aspettavano di trovare un veicolo in direzione opposta. Diverse quindi le segnalazioni degli automobilisti. La corsa dell'uomo si è interrotta poco prima del biore della Mezzia fermato alla polizia stradale. L'uomo, una persona anziana, ha detto di non essersi reso conto di quanto accaduto. Da successivi accertamenti inoltre è emerso che si era allontanato da casa e che i familiari lo stavano cercando. E ora ci spostiamo a Vibo Valencia con il cambio del comando provinciale dei vigili del fuoco. Sentiamo. Si conclude con il cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valencia quest'estate di avvicendamenti nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni vivonesi. Salvatore Tafaro lascia dopo due anni su disposizione del partimento dei vigili del fuoco per assumere la dirigenza del comando provinciale di Matera. Al suo posto Domenico Monterosso, già detto dirigente del comando provinciale di Bari e con un lungo passato proprio in città. È un ritorno molto gradito in questa mia terra e in mezzo alla mia gente dove ho lavorato per tanti anni con passione, entusiasmo e spirito di sacrificio, consentitemi di dire. Lei conosce già il territorio. Sarà un vantaggio per svolgere il suo lavoro? Sicuramente. È un territorio molto complicato specialmente dal punto di vista orografico. Noi qualche anno fa avevamo un progetto come Ministero dell'Interno L'Italia in 20 minuti, che voleva significare raggiungere ogni sede, ogni paese, ogni località dove c'era bisogno del nostro intervento tecnico urgente. In 20 minuti. Questa situazione in Calabria non la possiamo rispettare con le dotazioni organiche e le dotazioni strumentali che attualmente abbiamo e con la situazione della viabilità che attualmente interessa la Regione Calabria e in particolare il territorio di questa provincia. Durante la conferenza stampa di presentazione, sia il comandante uscente che quell'entrante hanno posto l'accento sull'istituzione di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco a Capo Vaticano Ricadi. Mi permetto con molto aumentà di rivolgere questo appello perché noi abbiamo una parte del territorio che durante l'estate a causa, per fortuna, per la vocazione turistica che ha si riempie di migranti, si riempie di turisti, si riempie di gente che viene a passare le vacanze in questa nostra bella terra. Noi dobbiamo cercare di far fronte a tutte le esigenze che si dovessero manifestare specialmente per quanto riguarda il soccorso che riguarda noi per cui sarebbe necessario potenziare quel distaccamento di ricadi che attualmente è stagionale e auspicare una trasformazione di distaccamento stagionale in permanente cioè operativo tutti i mesi dell'anno. Avete abbastanza uomini per coprire tutti i turni, anche quelli di questo nuovo presidio? Per quanto riguarda le forze organiche non siamo combinati mali a livello operativo nel senso che mi giunge notizia che ci sono altri comandi che stanno peggio di noi. Noi stiamo mali attualmente dal punto di vista dei funzionari tecnici perché sono stati decimati ovviamente per colpa di nessuno perché le carenze ci sono dappertutto ma noi qua in particolare soffriamo questa particolare carenza. Funzionari tecnici ce ne abbiamo tre in pianta organica ne sono previste di più speriamo che verrà colmata questa pianta organica il più presto possibile anche perché noi siamo chiamati ad assicurare diversi servizi sul territorio quello della prevenzione incendio soprattutto che controlla tutte le attività che sono soggette al nostro controllo e se non ho i funzionari in congruo numero questo non lo posso fare vuol dire che si accuseranno dei ritardi in questo settore il mio malgrado. E cambiamo argomento è stato presentato nella sede del Parco Nazionale della Sila l'edizione 2018 del Giardino delle Esperidi. Cultura, arte, musica, spettacolo e tanto altro questa è l'edizione 2018 del Giardino delle Esperidi tradizionale kermess presentata nella sede del Parco Nazionale della Sila dal 27 al 30 settembre un programma di appuntamenti vasto e ricco che quest'anno non vedrà coinvolto solo il comune di Zagarise ma anche Taverna e Sersale. L'idea principe di quest'anno è quella di coinvolgere anche altri comuni del territorio quindi fare una partnership abbastanza allargata che coinvolge i comuni di Taverna e i comuni di Sersale di un festival che è nato per il comune di Zagarise quattro anni fa e che in quattro anni abbiamo cercato di arricchire, di diversificare, di valorizzare quelle che sono le risorse autentiche dell'entroterra le risorse dei borghi antichi le risorse delle nostre antiche tradizioni culinarie, gastronomiche, culturali io credo che la Calabria e i nostri territori possono sviluppare se fanno rete e se valorizzano quello che hanno. Mira a valorizzare tutto ciò che è identità locale e risorse locali partendo proprio da arte, natura e cultura è un evento bellissimo, molto ricco, molto vario che valorizza comunque i nostri borghi, le nostre ricchezze, le nostre bellezze è una zona che è veramente una zona unica della Sila che è la Presila Catanzarese quindi sono molto contenta di ospitare qui la prima giornata il via di questa manifestazione che è sempre più bella e sempre più interessante ogni anno è un valore messo in campo, quattro giorni che vedono insieme comuni che hanno saputo fare rete, il parco della Sila naturalmente ma anche una contaminazione positiva tra i diversi linguaggi artistici tra linguaggi del passato, la musica popolare, gli antichi mestieri, l'artigianato e i linguaggi del presente un'apertura all'altro attraverso una riflessione anche sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione Sarà ricca di eventi la tradizionale Notte Bianca di Vibo Valencia che catalizzerà l'attenzione di grandi e bambini Torna la Notte Bianca a Vibo Valencia Piazze e Corso del Centro Storico viveranno così come è stato negli anni passati momenti di attrazione che coinvolgeranno i vibonesi in una serie di appuntamenti che alterneranno musica, dibattito, tradizione ed occasioni di incontro a presentare il programma che vivacizzerà il sabato sera a Vibo Valencia e il presidente della Proloco che ha pensato ed organizzato l'evento Torna la Notte Bianca più elaborata un messaggio chiaro per la città concreto, altre piazze in diretta quindi la Notte Bianca della Calabria e ritorno a Vibo Valencia ci saranno vari avvenimenti in contemporanea ci sarà un dibattito in piazza Diaz contro le mafie a cui parteciperanno, avrà testimonianza la signora Scarpulla il padre di Filippo Ceravolo e altri personaggi che si susseguiranno per poi finire lungo corso Vettore Emanuele piazza Diaz, piazza Garibaldi, piazza Michele Morelle con tanta musica, piazza Luigi Lazio, con tanta musica e tanto divertimento La formula è sempre quella di individuare le piazze del centro storico e vivacizzarle Sì, sì, la formula è quella abbiamo studiato una formula anche quest'anno innovativa in quanto abbiamo ascoltato anche le esigenze dei commercianti cosa importante, cosa che bisogna fare e grazie a loro abbiamo cercato di individuare anche le pecche degli anni passati risolverle e cercare di dare uno spettacolo maggiore per quest'anno alla città quindi un grande evento che la città di Vibbo avrà il 15 settembre 2018 E ora passiamo al calcio, precisamente alla Serie B dopo la partita Cosenza-Verona non disputata la squadra Rosso-Blu si prepara a sfidare il Cittadella L'esordio in Serie B ormai tre settimane fa con il pareggio in casa dell'Ascoli poi due settimane di stop forzato per il Cosenza a causa della pausa del torneo per dar spazio alla Nazionale e soprattutto per la mancata disputa della gara contro il Verona per la quale finalmente è arrivata la decisione del giudice sportivo con conseguenze per nulla positive per i colori rosso-blu letto il rapporto dell'arbitro e l'allegata riserva scritta di reclamo effettuata dalla società dell'Ellas a Verona il giudice sportivo ha infatti deciso di sanzionare il club del presidente Eugenio Guarascio con 3.000 euro di multa e soprattutto con la sconfitta a tavolino per 0-3 chiuso il capitolo contro il Verona la squadra di Braglia deve guardare avanti e il prossimo avversario sabato alle 15 si chiama Cittadella capolista del torneo a punteggio pieno con 6 punti che siamo a squadra forte lo dice gli anni che sono passati e quelli che verranno a Cittadella ha una base importante c'è un direttore che sa andare a prendere i giocatori che gli servono alla causa senza tanti fronzoli senza spendere cifre incredibili è una squadra che è più rodata sicuramente di noi noi andiamo lì e gli faremo girare le scatole queste poma sicure cerchiamo di fare risultato perché siamo in condizione di dover cercare il risultato poi se saranno più bravi di noi gli batteremo le mani noi abbiamo le nostre cose da potergli far vedere speriamo di fargliele vedere bene è una squadra pericolosa, è una squadra che fa un bel calcio perché bisogna riconoscere, hanno rotazioni in mezzo al campo continuo e se vai dietro a loro ti fanno perdere la testa perciò noi staremo tranquilli, compatti e poi dovremo cercare di fargli male che prima di venire di là ci devono pensare questo è quello che dobbiamo fare noi poi lo ripeto, se sono più bravi vincano e gli battiamo le mani e anche per oggi è tutto io vi aspetto nelle prossime edizioni di Calabria News 24 in forma intanto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it grazie per essere stati con noi, auguro a tutti voi una buona serata